il cielo mi sembra glia c'è qualcuno suo su forse elettrica al pulito bari gamba kitchen kitchen pulito guarda direttamente blu bene ancora glia entrare lettere che potete entrare blu pulito ragazzi una scale blu tutto pulito non mi sta seguendo nessuno o bene ancora server pulito porta piccata con lo scudo dietro bomba ecco hanno anche maestro il drone è sempre dietro bomba ho lasciato con mollato il drone controlla della porta di main stairs arriva riuscite a togliere con l'intro botola scudo scusate non lo vedo square dov'era mozzi square è a terra mozzi ballare animale su terra lo vado a confermare un attimo fermi occhio c'è un evil hai qua no no è dietro il muro ok ok vado al bridge sempre dietro bomba ecco red no dietro bomba è pulito scudo è libero red ecco red ecco scale green è pulito uno è dietro elevator uno side piccolo uno side piccolo jaeger side piccolo un elevator ecco in red maestro non ho idea ok non ho non ho call su su maestro e droni fatto io cai fatto io cai planto copro porta copro porta c'è c'è la copertura vai c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho no non ho fatto planta ma non ha fatto una ok 75 ti push a tornato ok planta di nuovo è su rotation buona fra bravi bravi che non era sopra scusatemi ci sono degli ok uno fatto l'altro lo sentivo close al bridge però non è sicuro marco di andare con lui non ho droni ragazzi 50 secondi vai con lui guardatemi il drone qua su scale io non ho droni raffa ti posso dronare col gemini aspetta aspetta c'è smoke dietro in fondo sul ping raffa l'alanta tengo rotation ok ok smoke fan culo mi è andato per le piazza ma terrato con la smoke a fare stami così ci ho vendi hp sto giusto prova a plantare dietro lo scudo sta usando gli ok 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 io non li vedo raffa tra un altro una volta la volta la moto non avevamo non avevamo cose ecco ci ha creato grossi problemi tutte le finestre sono aperte ho tappato io fuori borse morto eis un altro marco fatto una cosa io sono chiuso è oddio supporta janitor morto un altro zero non so credo sia twitch l'ultimo non so credo è sempre sempre su square probabilmente non lo so però borse borse ok è stata morta ok bravi morta finca è un altro c'è un altro che si sono scappato sono scappato sono tornato sai di finca open ho fatto uno fiuzza sulla botola fiuzza sulla botola scarica botola quale stanzino botola stanzino se ce l'ho io ce l'ho io stanzino se esce lo contai raffa mi ha dronato mi ha dronato uno in fondo open due 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 open uno stanzino stanzino fatto c'è un altro in fondo open e close raffa e c'era il muro col bengalo è lì tipo credo sia uscito e non lo so è rientrato adesso credo fuori macchina spawn parcheggi addirittura marco ok buona un post un s square top skylight già dopo si top mi sta troppo mi sta dronando fatto no 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 me ne va dire il stanzino ho fatto bacca la finca eh ma ho fatto finca finca fuori open uno sul cernario jager lo so è quello che mi stava fightando square top square è entrato guardo gli vilai eh finestra ripulita avete un minuto hanno un minuto però uno sul lalevator eh si vuoi guardarmi l'elevator uno è archivi sound call passa oh kitchen kitchen porta kitchen picca è entrato entrato fatto 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 ok alla vertical botola è pulita per ora botola è pulita sound call in archivi ancora eh uno ancora su porta square cioè su porta kitchen ti chiamo ti chiamo botola leo hanno fatto da open cam cam hanno fatto la cam default sì sì porta open mi hanno dronato dron in twitch dron in twitch è un pinguno dron in twitch oh e porta open entra entra sentando eh ok fatto calma 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 è entrato kitchen è entrato è entrato tutti e due tutti e due tutti e due bravi ragazzi bravi 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 ma avete tenuta perfettamente bravi 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 non era per un cazzo facile questa bravi bravi avete fatto un bel clutch ragazzi bravissimi buono scusate potevo fare di più io su square raga me l'ho dronato i mille si rampina uno sotto gialle ok sound sound mi sai che puoi usare un museo fatto sledge è passato la trench nomad morto un'altra nade arriva la nade da dove? fate rumore fate rumore aspetta metto metto il è entrato è entrato è entrato è morto 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 è buono fuori bridge sempre fuori bridge eh bridge basso passa sotto red raga passa sotto museo lì come si chiama l'hai mezzo hitato mi sa eh è sempre su pin 4 sempre pin 4 arriva ok buona perfetto fuori sottomarino uno sledge 2 hp calma calma ho la vertica a terra a terra a terra l'ultimo bagno docce bagno docce l'ultimo a terra fuori site scusami fuori lockers valer s è fuori la window è fuori la window raffa oh cam si è entrata in immersioni nade sottomarino è entrato ultimo one shot mi sa ultimo one shot ho la call caso me esce in corridoio o il drone o la cam davanti la porta non ancora entra entrato corridoio è entrato site corridoio di nuovo sound il defuso era lockers era lockers il defuso occhio ha un aperto stampante finca finca boostata entra 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 nade nade donna a terra fuori green c'è il defuser dove è? dove è? fuori red diffuser green fuori green fuori green e uno a terra sono tutti quanti sopra il bridge sopra il bridge è morto verso le finestre ce ne sono tutti e due scoppied 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 segnatela no ma tu non lo vedeva neanche lui buono bravo bravo exit exit pulita top red pulito 90 sembra clear un attimo 90 pulito green top green pulito uno è bridge bridge stampante 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 tutto pulito fino a occhio a capcan capcan occhio non è stampante ho mollato stampante è sceso sotto stampante scale stampanti ma ho fatto il drone uno mi sa red warden ma pure il c4 vabbè ho fatto una botola sola vabbè vabbè me la fai questa parte per entrare senza scavalcare per favore con bacche ok non posso ho fatto io mute morto un attimo che drone qui ci sono occhio a warden occhio a warden uno bridge basso bridge basso warden bridge basso warden il corridoio vabbè è a terra warden sotto botola sotto botola va va in museo 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 no a posto non ci voglio mai credere morto warden luca un minuto raga dronate oh bravo bravo luca ultimo era site raga ok un drone corrido io mi sa lascio drone qui su ping si si no si bravo luca bravo bravi ragazzi però mamma mia c'ho due round e non regalati di più assordente non bluetooth avevo 5g per l'iperfibra no vabbè ragazzi fuori di testa ma l'avete visto dove cazzo mi ha flashato sono già entrati bar qui ci non mmm sto laggando raga ma vabbè ma io c'ho una sfiga pazzesca stasera davvero da bar hanno già preso back morti entrambi oh cam raffa è libero uno fuori small arriva uno al ristorante uno in ristorante ristorante twitch avete camp bakery? si non c'è nessuno ok guardate Sì ce l'abbiamo Può anche chiudere il prep volendo Così si è a posto Ho fatto uno al defuser in corridoio red E uno al restaurant Bravo buono Arrivo Eh? Sì Rook gioca in freezer Non riesco È pieno di mute ragazzi Madonna io finca Dovete donare il finestro Vai 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 Puoi bracciare Drone stage natale Uno in freezer Uno in freezer Uno scudo qui Con una persona dietro No con nessuno No libero Uno freezer Uno cocktail dovrebbe essere Rotation bagno Hanno una cam Odocco Rook E lo esce un bagno Uno Uno even È il mio balcone Even fatto Bravo Ti viene da dietro? È su game spot Game spot Game spot Posso andare a tentare Secondo voi? No 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 Prova a dronartelo Magari mettiti safe Su new hatch Dronatelo Guardati fridge Guardati game spot Lascia c'è anche un drone a noi così C'è posto Perché è nato ne due Se hai due droni Lasciacene uno qua Lasciacene uno qua In mezzo così Ok Guardati game spot Ok game spot Game spot Arriva Il white È su white Giocati la kill Ti conviene Ti push Cocktail Cocktail Brava Mavi Brava 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 Siamo a farti bandit Mavi se vuoi puoi muovere il drone Closet red è pulito Closet red è pulito Vai Sotto red è pulito Small bakery è pulito Uno è bakery Uamai bakery Brown Raffo Brown Fermo là È su pillar Su pillar Pillar Prefire da dentro Thunderbird morto Mash che cazzo sto facendo Mash è stanco io Ok Raffa Sei l'unico con un drone Una red Ma Giaga l'insight Raga Dove Dietro bomba Non ho svegliato Bomba Non ho svegliato Sto domini Long desk ragazzi Long desk Ok è morto Sound Uno è il nuovo Il nuovo Il nuovo è ancora di ultimo Raffa Sopping Picca te Bravo Ultimo Anni call Non ne ho Adesso quello che audio Ho la camera Ho detto Ok Un po' picca per il plant Io arrivo Noi acce di nuovo Sigari Fatto Sto sparando la gamma Ditti Mavi con la Casomai ti spostano Casomai ti spostano Da quello spot Con la Se bricciano O cose così Io le ho consiglio di chiudere proprio Eh restaurant 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 Uno small Fuori E l'altro restaurant Occhio 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 a piccare Leo Eh so chiuso Eh lo so Però devi giocartela safe Giocatela su small Giocatela su quello di small Eh Dama guarda Vabbè Uno è prep Entrato prep Entrato prep Sta pushando porta Credo sia ace Vabbè Io al lato di prep Indy treggiano a piccare Guardo lato Vabbè 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 Nice try Nice try Si potevo farmi tutti e due Fuori small Non mi è morto Perché mi sono Mollato la presa Sul secondo di small Perché avevo quello di restaurant Che mi stava piccando Scusatemi Vabbè Dai nice try Vabbè